Raccini e Arrecanati ci siete andati davvero molto vicini al primo successo esterno stagionale e in fondo lo meritavate per quanto espresso sul campo? Sì abbiamo fatto una grande partita però poi il calcio è questo siamo andati sotto però nel secondo tempo si è vista la reazione di una squadra che sa quello che deve fare ha pareggiato ha preso due legni un paio di miracoli del portiere un gol annullato quindi ha creato i presupposti per poterla vincere non ci siamo riusciti però io dico ai miei ragazzi di continuare a giocare così perché la vittoria poi arriverà Si volta pagina si torna al Valle Anzuca sabato perché poi ci sarà un turno infrasettimanale quindi campionato sempre molto impegnativo quello della Serie D anche più lungo quest'anno con due squadre in più si torna al Valle Anzuca contro il Sant'Arcangelo che tipo di partita sta preparando il mister? Come sempre i ragazzi si allenano bene sappiamo di affrontare una squadra secondo me buona e quindi deve fare una partita importante e tornare al successo perché comunque veniamo da quattro pareggi consecutivi e quindi loro sanno che possono fare di più e puntiamo subito al successo contro una squadra ben allenata e quindi ci vorrà il miglior Francavilla per vincere la partita Grazie